Una nuova battuta d'arresto nella vicenda processuale che vede coinvolto l'ex sindaco di Torre del Greco Ciro Borriello e la ditta Fratelli Balsamo, importante azienda del territorio attiva nel settore dei rifiuti. È stata infatti rinviata a fine ottobre l'udienza fissata per la giornata di ieri e particolarmente rilevante per chi avrebbe consentito all'ex primo cittadino e deputato forzista di poter rilasciare spontanee dichiarazioni in merito alla ricostruzione dei fatti e delle vicende che dal 2017 lo vedono seduto al tavolo degli imputati per una presunta accusa di tangenti legate alla gestione dei rifiuti in città. A determinare l'annullamento dell'udienza è il legittimo impedimento di uno dei tre magistrati componenti il collegio giudicante, la cui assenza per quanto previamente sostituita, ha incontrato le opposizioni degli avvocati della difesa ai quali è stato così accordato l'impetrato rinvio. Un ulteriore allungamento procedurale che determina un nuovo rallentamento della fase dibattimentale del processo, continuando dunque a pendere come spada di Damocle sul destino del chirurgo di Via del Monte.